Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis. Sono le 9.40 secondi. Buongiorno, io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto a questa nuova puntata, diciamo, extra large di almeno due pagine al giorno. E' un appuntamento che da qualche giorno prima di Natale, ma anche in questa prima settimana del 2024, stiamo realizzando per permettere anche al nostro amatissimo Alessio Lerda di tirare il fiato, ma di ritornare ovviamente in sella da lunedì prossimo 8 gennaio con la consueta rassegna stampa quotidiana Play che va in onda dalle 8 alle 10, sempre su RBI, Radio e TV ogni giorno. Si diceva di una versione extra large come facciamo insomma da qualche giorno in cui proviamo a mettere insieme i titoli delle prime pagine dei giornali che anche oggi abbiamo sul nostro tavolo. Oltre a dare un'occhiata ad alcune testate estere, lo abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, stando sempre molto attenti insomma a quello che succede quotidianamente nel mondo, soprattutto rispetto ad alcuni conflitti ai quali stiamo dedicando particolare attenzione. Insomma quindi alcune testate estere in versione online, un occhio sempre alle agenzie e anche un'occhiata anche alle news flash che arrivano dalla nostra redazione giornalistica. Poi ovviamente il nostro racconto che è insomma la nostra prima anima se vogliamo, che è quella della cultura dentro la nostra rassegna stampa quotidiana e ovviamente la musica. Oggi in realtà c'è una novità nel senso che per questa mattinata, per questa rassegna stampa, ad accompagnarci in questo racconto c'è un giornalista, un amico e voglio dare il benvenuto ovviamente qui negli studi di RBI Radio e TV ad Enrico Panero. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Grazie per essere qui con noi a raccontare con noi diciamo le prime pagine dei giornali. Ovviamente voglio subito presentare Enrico Panero che è un giornalista, cura la redazione torinese di Scarbo dei Tennis, giornale il mensile dei giornali di strada. Insomma racconteremo i contenuti di questo doppio numero dicembre-gennaio e focalizzeremo l'attenzione soprattutto su alcuni temi particolari che stanno al cuore del lavoro di Enrico Panero ma anche insomma che riguardano come sempre, come diciamo sempre, insomma anche qui da questi microfoni, riguardano assolutamente tutti noi. Intanto però si diceva della musica, allora prima di cominciare a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali oggi in Edicola e ovviamente anche alle testate online, soprattutto quelle estere, cominciamo con la musica, cominciamo con il Nirvana. Ieri ci siamo insomma quasi lasciati su questo ragionamento intorno all'ennesima causa dei legali del bambino che appariva sulla copertina di Nevermind. Allora oggi proprio da Nevermind vogliamo partire proprio dai Nirvana. Questa è Something in the Way. Questa è Something in the Way dei Nirvana da Nevermind uscito il 24 settembre del 1991 per Geffen Records. Allora cominciamo il nostro racconto quotidiano partendo come detto dalle prime pagine dei giornali sul nostro tavolo questa mattina. Allora apriamo con il Corriere della Sera. C'è stata una terribile strage ieri che viene insomma da un'area sulla quale stiamo dedicando particolare attenzione in queste settimane. Lo fa sempre in maniera molto acuta e molto opportuna anche il nostro Alessio Lerda complè. Insomma noi proviamo a darvi conto e poi proveremo anche con il nostro ospite in studio oggi Enrico Panero provare anche a fare qualche leggero ragionamento insomma rispetto a quello che sta succedendo provando a capire insomma la situazione molto molto intricata che viene dal Medio Oriente. Corriere della Sera strage in Iran alta tensione oltre 90 morti in due esplosioni secondo Teheran e terrorismo. E in Libano Nasrall accusa Israele gli attentati vicino alla tomba di Soleimani. Il rischio escalation, il Mossad dopo il raid a Beirut colpiremo ancora. In taglio medio sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera ISIS oppositori o trame quelle bombe senza firma. Il regime indica il nemico esterno, un articolo di Guido Olimpio. E poi ancora un'intervista, così cresce il pericolo di un conflitto allargato, affirma Giuseppe Sarcina. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ci spostiamo sulla prima pagina invece della stampa con la fotonotizia che campeggia praticamente per buona parte diciamo della prima pagina della stampa. Iran paura escalation, strage sulla tomba di Soleimani. Nasrallah dice se Israele attacca il Libano se ne pentirà. C'è un commento di Domenico Quirico. La guerra ibrida di Gerusalemme. Ci spostiamo anche sulla prima pagina della Repubblica. La strage dei Pasdaran. Nasrallah, Israele pagherà per il blitz a Beirut. Ci vendicheremo. Iran esplodono due bombe tra la folla sulla tomba del generale Soleimani. Purtroppo ci sono, si contano. Cento morti, Teheran e terrorismo. Dura la reazione di Raisi e Kamenei. Gli attentatori saranno schiacciati. Secondo Washington non è opera nostra e l'Isis rischio escalation in Medio Oriente. E poi c'è un'analisi di Enrico Franceschini in taglio medio. Tornano le guerre segrete. Questa mattina sul nostro tavolo abbiamo anche il foglio quotidiano che di solito per chi ci segue all'interno della nostra rassegna stampa quotidiana almeno due pagine al giorno, quella culturale. Insomma, noi molto spesso la utilizziamo questa testata anche e soprattutto per i contenuti culturali, soprattutto per il figlio, l'inserto curato dalla neodirettrice del Salone del Libro, Annalena Benini. È sempre molto affollata la prima pagina del foglio quotidiano. Il coraggio di difendere Israele, che è, come dire, la battaglia editoriale, se vogliamo, quantomeno del foglio da diverse settimane a questa parte. 12 storie poco raccontate di cui dovrebbe andare orgoglioso chiunque consideri la difesa dello Stato ebraico un passaggio necessario per la difesa della nostra libertà. C'è vita oltre Harvard. Vi ricordate, insomma, abbiamo dato conto anche ieri della notizia delle dimissioni di una docente, diciamo, di un luminare di Harvard, insomma, per alcune sue dichiarazioni antisemite, altre posizioni sulla guerra in Medio Oriente. Taglio alto, giudicare è diventato tabù e la critica televisiva è morta. Persino il docufilm su Gaber ne è rimasto vittima e non è un buon segno. Un articolo di Alfonso Berardinelli in taglio alto. In realtà, per trovare qualche notizia che riguarda anche la stretta attualità della guerra in Medio Oriente, di cui abbiamo parlato poco fa, dobbiamo andare in taglio medio-basso, diciamo, del foglio. Distruggere Hamas per esistere. La sopravvivenza di Israele richiede lo sradicamento carnale del nemico. Ed è un articolo del fondatore del foglio quotidiano, Giuliano Ferrara. Ci spostiamo su Editoriale Domani, che invece dedica l'apertura a tutt'altro. Così Salvini ha incontrato Huawei, il colosso cinese cliente dei Verdini. Gli spari di Pozzolo, il Mess e il leghista. Oggi Meloni ha lo stress test della conferenza stampa. Ci sarà una conferenza stampa attesissima di Giorgia Meloni, oggi alle 11, tra poco più di un paio d'ore, in cui dovrà, insomma, dare conto anche di tutta una serie di cose che riguardano, quantomeno, la cronaca degli ultimi giorni che ha coinvolto esponenti di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda il manifesto, invece, variante iraniana. Il sangue ora scorre in Iran, attentato al cimitero di Kerman, oltre 100 morti tra la folla che ricordava il generale Pasdaran Soleimani. Nessuna rivendicazione, ma Teheran guarda già a Tel Aviv dal Libano. E sbolla, prova a frenare la corsa alla guerra regionale. Questa è l'apertura del manifesto. Ma intanto, insomma, io approfitterei della presenza in studio del giornalista Enrico Panero, che ringrazio, diciamo, per essere qui con noi oggi a commentare, insomma, per quanto possibile, diciamo, anche questo genere di notizie, per capire, insomma, so che, anche a beneficio dei nostri telespettatori e anche ascoltatori della, diciamo, dell'attenzione da sempre di Enrico Panero, diciamo, per questo genere di temi, ma, insomma, si diceva anche fuori onda, prima di cominciare, Enrico, è veramente molto complicato, diciamo, provare a trovare il bandolo della matassa intorno a questo conflitto da sempre. Questo attentato, diciamo, complica ulteriormente le cose. Enrico, intanto, ancora benvenuto. Buongiorno. Sì, ciao a tutti. Sai, la questione qual è? È che la complessità è tale sul conflitto medio orientale che riguarda Israele e Palestina, che riguarda altri paesi, che è veramente difficile poter avere degli elementi, no, per capire le dinamiche. Certo, le cose non succedono mai per caso, per cui sicuramente questa strage, innesimo, diciamo, elemento che può complicare ulteriormente il quadro, non avviene per caso, c'è una strategia. Sinceramente, cioè, bisognerà capire con calma. Sinceramente, accusare direttamente Israele e Stati Uniti mi sembra veramente un po' una semplificazione, un po' esagerata. Il problema è che noi fino al 7 ottobre l'avevamo un po' dimenticata, la complessità medio orientale, e poi ci è piombata davanti in modo così drammatico. E' una questione mai risolta, no? Per cui è chiaro che è a tratti, e questo è uno di quei momenti in cui tutto viene messo insieme, si creano situazioni veramente molto, molto, molto tese, molto pericolose. Ma intanto, prima del prossimo passaggio musicale, faccio anche un passaggio sull'Ansa, che dà conto, insomma, di questa strage. Tra la folla sulla tomba di Soleimani, oltre 100 morti, Teheran, dice, la risposta sarà dura, due bombe e più di 200 i feriti, migliaia di persone stavano andando a rendere omaggio alla tomba del comandante della forza Khods dei Pasdaran, al cimitero di Kerman. Stati Uniti, né noi né Israele coinvolti nell'attacco, ma l'Iran incolpa i due paesi. Prima del prossimo passaggio, Enrico, ancora un'ultima considerazione da parte tua. Ovviamente, quello che poi interessa particolarmente, almeno noi che raccontiamo con un certo sguardo, questi conflitti, molto spesso ci concentriamo sull'attenzione sulle vittime principali, che sono i civili. A fare le spese, e questo non cambia da sempre, rispetto alle dinamiche della guerra, sono i civili. E qui la conta dei morti tra i civili è una conta davvero tragica, drammatica, ormai non rende più l'idea. Siamo oltre l'elemento, ma neanche non si possono accettare dell'accettazione. I civili sono sempre le vittime, l'ha sempre detto anche Gino Strade. Insomma, siamo sempre qui a fare i conti dei morti tra gente che in realtà non c'entra niente con tutto questo. Sì, certo. Alla fine vengono considerati quasi sempre come effetti collaterali di strategie altre. Sulla questione israelo-palestinese noi ce ne siamo occupati per anni. In passato, curando il rapporto diritti globali e ogni anno sembrava di ricominciare da capo. Era sempre la stessa cosa. C'era sempre un rapporto 1-10 tra i morti israeliani e i morti palestinesi. Ancora adesso questa cosa si ripete. Quando ci sono stati quasi 2.000 israeliani uccisi il 7 ottobre, sembrava una cosa incredibile, siamo già a 20.000 palestinesi come reazione, come vendetta, come strategia, chiamiamolo come vogliamo. E questi sono prevalentemente civili da una parte e dall'altra, però appunto contano fino a un certo punto, così come sono prevalentemente civili sicuramente anche questi iraniani che sono morti ieri. Sì, la questione è sempre quella che noi civili contiamo poco rispetto a queste strategie che quando si decide che devono riacutizzarsi si fa, non si guarda in faccia nessuno, tanto meno alle persone, ai civili insomma, alle persone che vivono in questi posti. Allora, torneremo intanto tra poco a ragionare sulle prime pagine dei giornali, prendiamoci una pausa, un passaggio musicale con una band che da queste parti amiamo particolarmente, abbiamo detto insomma di averli visti, quest'estate al Today's Festival a Torino con uno show davvero magistrale, meraviglioso, questi Warhouse, e questa è Popcorn. E questa è Popcorn di Warhouse con la voce di Sylvie Creusch per un brano uscito il 10 novembre scorso per Paias. Intanto voglio tornare sulle prime pagine dei giornali per darvi conto un po' delle altre notizie che completano le prime pagine dei giornali a nostra disposizione. In taglio medio su Repubblica, caso Pozzolo spunta un'ipotesi, non sarebbe stato il solo a sparare, il che insomma rende la questione ancora più inquietante se vogliamo, sequestrate altre armi al deputato. E poi ancora un retroscena ricostruito per Repubblica da Tommaso Ciriaco su tutt'altro. Meloni ha deciso la cacciata dal partito, nel senso che tutt'altro no, nel senso che insomma c'è una, sembra quasi già una resa dei conti all'interno del partito perché poi sono i piccoli diciamo elementi che tendono anche un po' a far crollare un castello che sta in piedi diciamo in maniera abbastanza precaria, però insomma non precario nel gradimento insomma degli elettori perché insomma in questo paese ancora Fratelli d'Italia è molto forte anche nel gradimento. Di spalla a Repubblica, giustizia, inchiesta a Verdini, quegli appalti in dieci regioni con offerte pilotate, il fiume della corruzione, l'articolo affirma Isaias Sales e poi ancora le colonne dei fori rifatte con i soldi dell'oligarca di Putin. Articolo affirma Floriana Bulfon, in taglio basso, se i selfie inquinano la nostra vita, un articolo di Marco Belpoliti. E poi ancora il nuovo film di Wim Wenders, La profondità zen nei giorni perfetti, un articolo affirma Laura Imai Messina, ma ci torneremo più tardi quando insomma dedicheremo un po' più di spazio alle notizie culturali. Per quanto riguarda invece la stampa, siamo in prima pagina del quotidiano torinese, i nostri vent'anni senza bobbio, maestro di dubbio e di dialogo nel taglio alto, la ricorrenza in un articolo di Marco Revelli. Ugo Zatterin parla di televisione, quando la RAI stava per volare, io Zavatini e il genio Modugno. E poi ancora la notizia sulla quale ci siamo soffermati anche ieri, di François Bournet e la foto che ha reso il bacio immortale, la foto di Robert Duanot. Ancora di spalla sinistra, concorrenza Meloni difende i balneari, Tremonti, Bolkenstein superata. Dalla storia e poi ancora l'analisi di Serena Sileoni, il ricatto inaccettabile delle piccole lobby, il fisco, evasione fuori controllo, 84 miliardi in un anno, firma Luigi Grassia, e poi ancora in taglio medio, i testimoni accusano Pozzolo, dopo lo sparo disse, sono rovinato. E poi ancora l'inchiesta sui favori per le opere pubbliche, Simonini, ex AD di Anas, chiedo scusa e buonsignore, nuovi indagati nel Verdini Gate. Ci sono tutta una serie di articoli di commento sulla spalla destra. Il caso Cecchettin perché le emotività e il moralismo non servono a molto di Giovanni Orsina. Ancora Luca Bottura, quelli che attaccano il padre di Giulia, e poi le idee se i giovani crescono con la pornografia, un articolo affirma Lucetta Scarafia. Ancora per quanto riguarda lo sport, in taglio basso all'Arabia non basta CR7, il petrocalcio è già in crisi. E poi ancora il revello di operai e impiegati contro i mostri sacri del Paris Saint-Germain. Un articolo di Danilo Ceccarelli. Diamo un'occhiata ancora al Corriere della Sera. Un commento di un articolo in editoriale di Aldo Cazzullo, partiti e mutazioni, meriti e demeriti a destra, concorrenza e leggi, il doppio messaggio d'alcole di Mario Monti. Invece in taglio medio, Pozzuolo, sospensione vicina, il ferito basta menzogne, il deputato di Fratelli d'Italia, io non ho sparato, Meloni, oggi le risposte. E ancora lo sfogo di Luga Campana, mai vista quella pistola, tanto meno l'ho toccata. Un articolo e un'intervista di Cesare Giuzzi. Taglio basso, io e Gianluca copiava persino Nadal, Nino Vialli parla del fratello, a un anno dalla morte, e riusciva in tutto. Era un perfezionista, articolo di Francesca Morandi. E poi ancora Agnelli, quadri, il GIP, Sentire le governanti, l'eredità contese, le opere sparite. Un articolo di Luigi Ferrarella. Il tempo corre, noi siamo al prossimo passaggio musicale. Un gruppo che, insomma, accomuna anche i destini personali con quelli di Enrico Panera. Ne parleremo tra poco, intanto questi sono i raccontors, e questa è Now That You're Gone. Now That You're Gone, dei raccontors, da Help Us Strangers, l'ultimo disco bellissimo, della band di Jack White, progetto parallelo, ma neanche tanto. Insomma, è uscito il 21 giugno 2019 per Third Man Records. Enrico, insomma, ci sono i raccontors, diciamo, accomunano, diciamo, anche la nostra esperienza, diciamo, di fruitori di concerti dal vivo, perché sono una band straordinaria che, insomma, recupera anche la tradizione degli anni 70, attualizzandola molto. Insomma, esiste un episodio che ci accomuna perché diversi anni fa i raccontors suonarono a Torino e siccome, diciamo, nella prima fase dei 2000 a Torino è arrivato veramente di tutto, insomma, ho dovuto scegliere, quindi ho scelto di non andare al concerto dei raccontors, di cui mi pento ancora adesso, ma i raccontors sono una grande band, soprattutto dal vivo, no? Sì, sì, soprattutto il magnetismo di Jack White mi colpì quella volta perché fu anche l'unica volta che mi capitò di vederlo dal vivo e di ascoltarlo dal vivo e effettivamente si percepiva questa, beh, questa aura, questa energia particolare. Abbiamo un minuto prima della prima pausa, volevi fare una velocissima riflessione sulla questione della corruzione, vedete il caso Verdini and Family in questa fase, insomma, questo paese non cambia mai, non impara mai niente, insomma. Sì, questa è la cosa più amara al di là delle questioni internazionali che chiaramente sono molto, molto, molto più importanti, però, sì, constatare che io ricordo di aver fatto la tesi su Mani Pulite, sulla questione morale degli anni 80 e degli primi anni 90, poi con l'inchiesta e con il discorso su Tangentopoli sembrava che appunto in questo paese cambiasse tutto, forse la fine di un'era in realtà siamo qua, stiamo parlando sempre delle stesse cose, insomma. Non cambia mai, storie da stra paese, ma intanto siamo alla prima pausa di questa versione lunga di almeno due pagine al giorno, spazio all'infotraffico muoversi in Piemonte al GR di Popolare Network. A tra poco. Black Rebel Motorcycle Club Ain't No Easy Way da OWL, disco uscito per Ico Paias a giugno del 2015, sono le 9 e 39 minuti in questo preciso istante. Bentornati ad almeno due pagine al giorno, nella nostra rassegna stampa quotidiana, ampia, a 360 gradi, dalle prime pagine dei giornali alle agenzie, alle breaking news, e oggi con il nostro ospite Enrico Panero per approfondire alcuni temi particolari. Voglio intanto darvi conto di alcune notizie che campeggiano sulle prime pagine di alcune testate online a partire dal mondo francese. Il riarmo civico tra virgolette dei giovani, asse centrale dell'incontro con la nazione di Emmanuel Macron, il capo dello Stato che prepara il suo incontro con la nazione promesso per gennaio, cerca di ristabilire l'autorità con una serie di misure come le uniformi scolastiche o il servizio nazionale universale. Poi si legge ancora di spalla sul fronte ucraino il faccia a faccia infinito tra due divisioni di artiglieria nemiche e poi scendendo e scorrendo quasi un centinaio di morti in Iran in una doppia esplosione vicino alla tomba del generale Ghassem Soleimani ucciso nel 2020. Ancora scorrendo si legge una notizia sempre di Le Monde in Turchia la guerra dei bottoni rossi episodi vietati torrenti di commenti sulle reti questa serie televisiva che getta una luce dura sulle confraternite religiose islamiche sostenitrici incrollabili del potere provoca l'ira degli ambienti conservatori. Voglio portarvi con me all'interno della prima pagina del Guardian perché insomma anche qui di solito diamo spazio alle notizie e alle breaking news diciamo se vogliamo si torna sul caso di Jeffrey Epstein qualche anno fa insomma ricordate documenti collegati agli associati resi pubblici Bill Clinton Michael Jackson David Copperfield e il principe Andrew tra i nomi contenuti nei documenti del tribunale chi era Epstein e di cosa parlano i documenti qual è stata la fonte della fortuna di Epstein di 580 milioni di dollari e poi ci sono anche i documenti non sigillati di Jeffrey Epstein insomma raccontati e messi pubblicati dalla testata britannica ancora sulla spalla destra del Guardian il freddo estremo e le tempeste di neve interrompono i viaggi e le scuole dice il Guardian e poi ancora siamo sulla prima pagina sull'home page del quotidiano spagnolo El País Arura saluta Saleh al-Aruri il suo figlio più famoso con rassegnazione e orgoglio sapevo che lo avrebbero ucciso più di 90 morti nel peggiore attentato nella Repubblica Islamica dell'Iran insomma i dati sulle morti sono differenti sono difformi rispetto alle altre testate probabilmente non c'è stato ancora un aggiornamento diciamo dei dati per quanto riguarda il Paese e poi anche qui sull'home page del Paese si torna alla questione Epstein il giudice pubblica documenti con i nomi delle persone citate nel caso e torno ancora un attimo sull'home page di Ansa perché si dà spazio a Salvini ora basta da oggi partono le querele devolveremo in beneficenza i risarcimento insomma sapete insomma anche delle questioni familiari affettive di Salvini con una figlia credo di Verdini di Verdini in questo momento nella bufera Verdini senior e junior allora prima del prossimo passaggio musicale volevo ancora tornare diciamo per cominciare a ragionare con il nostro ospite Enrico Panero oggi con noi in studio di questioni legate al suo lavoro quotidiano lo dicevamo poco fa Enrico Panero è un giornalista e si occupa della redazione torinese e corregimi se sbaglio Enrico del giornale del mensile della strada scarpe tennis voglio per chi ci guarda anche in tv sul canale 87 del digitale terrestre mostrarvi la copertina la prima pagina del numero di dicembre gennaio di scarpe the tennis un anno sotto sopra i contrasti delle città nel 2024 che si affaccia alla storia riflettono le nostre esistenze e le contraddizioni di un sistema economico che esclude e margina a lontana un numero speciale con contributi da tutto il mondo allora Enrico intanto a beneficio anche dei nostri ascoltatori e dei nostri spettatori inquadriamo innanzitutto la rivista insomma quando parliamo di scarpe the tennis di che cosa parliamo di che tipo di rivista stiamo parlando sì scarpe the tennis è soprattutto un progetto sociale cioè la rivista è un mezzo in realtà per portare avanti questo progetto che ha come obiettivo alcuni obiettivi principali intanto il primo è dare una possibilità di integrazione al reddito a persone in difficoltà che sono poi le persone che vendono al giornale stesso che trattengono un terzo del ricavato della vendita i due terzi vengono restituiti alla redazione centrale all'organizzazione centrale che è a Milano la cooperativa Oltre che è di ambito di carita stamprosiana insomma e che si occupa della fattura del giornale della distribuzione della stampa della distribuzione e di anche garantire una copertura assicurativa e contributiva ai venditori questo diciamo quindi dar la possibilità a persone in difficoltà di riavvicinarsi a un'attività lavorativa per cui appunto la cosa che è da sottolineare è che la persona che va a vendere il giornale non chiede la beneficenza ma svolge un'attività a tutti gli effetti lavorativi nel senso che deve poi attenersi degli orari a delle regole di comportamento perché ha a che fare con le persone e questo è l'altro obiettivo fare in modo che ci sia una sensibilizzazione diretta delle persone che acquistano il giornale verso il problema diffuso della povertà cioè non è un'elemosina ma è un rapportarsi a una persona che hai di fronte e che si mette in gioco presentandosi per quello che è per la situazione che sta vivendo e ti offre questo giornale terzo obiettivo il giornale non è un manufatto qualsiasi nel senso che la persona che utilizza questo mezzo per una piccola integrazione al reddito dà alla persona che acquista il giornale questo mensile e il mensile e quindi c'è la possibilità che poi i contenuti vengano anche letti e il mensile si occupa prevalentemente di questioni sociali che partono dalla questione senza dimora e povertà ma che si estendono diciamo dalla denuncia di situazioni alla segnalazione di buone prassi di progetti innovativi di innovazione sociale è un mensile che ha già una lunga storia nel senso che adesso non ricordo bene diciamo le sue origini è un quotidiano un mensile ambrosiano milanese se vogliamo lombardo che ha già qualità più di 30 anni nasce nella metà degli anni 90 a Milano il nome stesso poi lo dice perché nasce da una canzone di Enzo Iannacci e il portavo a Scarpe a cui avete dedicato tra l'altro scusami se ti interrompo Enrico avete dedicato un numero qualche mese fa perché era stato scoperto anche un inedito diciamo di Iannacci per cui diciamo dentro il DNA del giornale c'è Enzo Iannacci in purezza se vogliamo assolutamente poi Scarpe ha curato diverse mostre su Iannacci che hanno girato a Milano e in tutto il paese poi c'è un buon rapporto anche con la famiglia col figlio insomma perché perché la canzone di Iannacci parlava di un barbon di un barbone quindi una persona senza dimora diremmo oggi in modo così corretto politicamente corretto politicamente corretto non mi ricordo la domanda però nel senso la storia la storia praticamente nasce da un'iniziativa editoriale abbastanza originale perché in quegli anni lì non erano molti però a livello internazionale questo è l'altro passaggio da segnalare a livello internazionale c'erano già esperienze di giornali di strada e oggi da qualche anno Scarpe è in modo molto interessante all'interno di questo network che si chiama International Network of Street Papers INPS INSP che raduna in questo coordinamento oltre 100 giornali di strada che ci sono in tutti i paesi del mondo praticamente con decine di miglia centinaia di migliaia di persone che lo vendono e che grazie a questo lavoro diciamo alcuni si mantengono altri riescono comunque a integrare il proprio reddito la cosa interessante è che appunto il modello ad esempio anglosassian del Bigissio che è forse il più famoso quindi Regno Unito Irlanda Australia da qualche anno ha una filosofia completamente diversa proprio perché culturalmente nasce in una cultura capitalistica e quindi tutto il discorso dell'assistenzialismo è altro cioè sulle charity per cui le persone che vanno a vendere il giornale il Bigissio in questi paesi arrivano in redazione e acquistano loro i giornali quindi c'è un rischio di impresa acquistano i giornali e poi cercano di venderli come possono come riescono la cosa interessante è che in questa forma qui i venditori non sono esclusivamente persone senza dimora ma sono tutti quelli che vogliono venderlo quindi lo studente il disoccupato diciamo è vissuto in modo un po' più laico meno assistenzialistico in Italia comunque diciamo che negli anni 90 nasce anche in Italia questo questo giornale di strada in quegli anni lì poi ne nacquero altri perché in Italia i giornali di strada alla fine nella metà degli anni 90 erano vari Scarpe è uno dei pochi oggi oltre a Scarpe ci sono altri due giornali di strada che non solo è sopravvissuto ma si è diciamo esteso dall'esperienza milanese si è esteso ad altre città Torino è stata una delle prime ad aderire al progetto oggi conta 15 redazioni in tutta l'Italia negli ultimi sei mesi sono tra l'altro piacevolmente entrate alcune redazioni del sud perché il sud era un po' scoperto soprattutto negli ultimi 5-6 anni invece c'è stato un boom al sud con Locri Noto Bari ci sono sì e quindi appunto una diffusione nazionale mensile ecco torneremo tra pochissimo sui contenuti anche di questo numero anche tra l'altro voglio ricordare che pure in questo numero di dicembre e gennaio si fa ci sono delle notizie delle brevi che vengono dal mondo da quell'international network of street papers di cui parlava poco fa Enrico ecco per chi ci guarda queste sono le due pagine dedicate insomma alle notizie dal mondo dei giornali di strada dal mondo facciamo ancora un passaggio musicale poi torneremo ancora con Enrico Panero e Scarpe the Tennis a ragionare insomma sui contenuti del numero ma anche su alcune emergenze diciamo sempre al cuore del lavoro di Enrico ma anche di Scarpe the Tennis questi sono i Kaiser Chief e questa è la loro feeling alright e questi sono i Kaiser Chief feeling alright singolo che insomma anticipa il nuovo disco Kaiser Chiefs Easy 8th Album in uscita il prossimo primo marzo per V2 Records abbiamo un paio di minuti Enrico per tornare in realtà rapidamente per quanto sia possibile ovviamente su chi sono in realtà i venditori di strada che sono in realtà poi se vogliamo al di là della redazione old anche con la redazione la spina dorsale di Scarpe the Tennis Enrico guarda innanzitutto mi preme sottolineare che non chiaramente lo do un po' per scontato ma è meglio sempre sottolineare non esiste una categoria no? sono tante persone diversissime che hanno in comune il fatto di passare temporaneamente un momento di crisi che sia esistenziale che sia economica che poi i motivi per finire in strada sono veramente tantissimi ed è sempre più più facile no? il post-covid ha addirittura aumentato no? questi rischi però mi preme ricordare una di queste persone perché un anno fa di questo periodo come ultimo numero dell'anno di Scarpe del 2022 intervistai Claudio Claudio Garello che era un venditore una persona che era finita in strada una persona davvero valida e che grazie a Scarpe aveva ripreso si era ripreso in mano un po' la vita nel senso che in pochi mesi aveva ripreso un lavoro stava arrivando alla casa e si è ammalato in pochi mesi è morto in pochi mesi ci ha lasciati a maggio del 2023 se ne è andato e quindi poi appunto ci sono anche queste storie di persone che attraversano un momento di estrema difficoltà nel momento in cui si riprendono e la vita in questo è veramente particolare fa riflettere e invece di riuscire a raggiungere l'obiettivo non ce la fanno allora in questi in queste in queste situazioni viene da pensare allora se Claudio non fosse finito in strada probabilmente non l'avrei conosciuto io non l'avrebbero conosciuto un sacco di altre persone e che invece grazie a lui hanno capito cosa significa vivere un momento di difficoltà a finire in strada essere un senza dimora lui ha veramente dato la possibilità a un sacco di persone che siano i servizi pubblici privati operatori al suo funerale c'erano operatrici del dormitorio dove lui era stato che piangevano una cosa veramente toccante e quindi le storie sono queste qua sono anche quelle di Claudio sono anche quelle di Claudio che noi ovviamente ricordiamo anche attraverso per quello che possiamo da questi microfoni attraverso un passaggio musicale che racconta di perdita e il prossimo brano è stato scelto esplicitamente da Enrico con noi qui in studio questa mattina che parla di perdita perché stiamo parlando dei Foo Fighters stiamo parlando di una grande e gravissima perdita per quella meravigliosa band di Dave Grohl cioè Taylor Hawkins batterista che è scomparso insomma in situazioni insomma di cui non abbiamo ancora ai confini se vogliamo ma non è neanche importante ciò che conta era il legame tra loro due torneremo tra pochissimo a parlare di questa band ma anche di questa passione diciamo che ci lega anche ai Foo Fighters intanto questa canzone si intitola Rescued c'era stato un piccolo disguido insomma Liam Gallagher con i suoi BDI insomma era entrato un po' a gamba tesa su questo in realtà che è il pezzo scelto da Enrico Panero dei Foo Fighters Rescued uscito il 19 aprile scorso a rimorchio dell'album But Here We Are uscito il 2 giugno scorso per Roswell RCA Records il testo è anche molto efficace è arrivato in un lampo è venuto fuori dal nulla è successo così in fretta e poi era finita insomma una perdita gravissima per i Foo Fighters ma anche per chi segue la band di Dave Grohl insomma Enrico vogliamo ancora aggiungere qualcosa rispetto a questo brano ma anche a questa band straordinaria sì anche a questo disco di cui segnalarei assolutamente The Teacher e Rest che sono i miei due brani preferiti anche perché come dicevi tu la perdita è stata grande perché hanno avuto la perdita del batterista fondatore ma Dave Grohl ha avuto anche contemporaneamente negli stessi mesi la perdita della madre una figura fondamentale nella sua vita quindi tutto questo disco è un po' dedicato infatti è un disco molto diverso dai precedenti a tratti molto intimista quasi psichedelico veramente veramente interessanti in alcuni brani allora Enrico torniamo a parlare diciamo del tuo lavoro quotidiano con i Senza Fissa Dimora la tua attività con la rivista Scarpe the Tennis di cui abbiamo inquadrato quantomeno diciamo i fondamentali poco fa voglio ripartire con te da un dato di cronaca un dato di realtà che riguarda in realtà Torino la sua provincia che ci permette però poi di allargare in maniera molto forte diciamo il discorso sul tema della povertà in questo in questo paese insomma faccio anche qualche recupero come spesso mi capita all'interno della rassegna stampa quotidiana un recupero dalla stampa di Torino di mercoledì scorso 22 dicembre quando il vice commissario della Polizia Municipale diceva che c'è una emergenza nel consumo di crack diciamo tra i senza tetto a Torino diffuso soprattutto tra gli stranieri si legge una reazione al dolore della vita in strada faccio il paio anche con un'altra notizia che viene dalle pagine torinesi della stampa del 22 dicembre invece si parla di numeri di accoglienza in una delle strutture ex istituto di corso Regina Margherita a Torino il Buon Pastore che ha 80 nuovi posti letto però l'articolo di Paolo Varetto punta l'attenzione anche sul fatto che esistono in strada almeno a Torino ma penso che sia abbastanza generalizzabile il discorso anche almeno 100 irriducibili cioè persone che scelgono di non andare in nessuna struttura ripartiamo da qua insomma dal dato numerico insomma e anche sociale di Torino per poi allargare il nostro discorso Enrico rispetto alla situazione dei senza fissa dimora Sì guarda i due titoli che hai citato sono abbastanza emblematici della situazione delle persone di strada allora sulla questione degli irriducibili intanto i numeri non li conosce nessuno i numeri sono sempre veramente si tratta sempre di stime a seconda di chi li rileva c'è stato ad esempio recentemente un'ultima stima dell'Istat sui dati anagrafici quindi sulle residenze fittizie per cui il dato più aggiornato che addirittura è fatto in proporzione cioè se parla di circa 90.000 persone senza fissa dimora a livello nazionale e poi considera Torino avere una percentuale del 4,6% questo porterebbe a stimare oltre 4.000 persone a Torino non è un dato reale sicuramente come non non lo è quello delle 100 cioè è un dato è una stima quello delle 100 persone irriducibili io credo che siano decisamente di più sono di più ma sì ma cosa vuol dire irriducibili vuol dire che sono semplicemente che sono persone che per motivi vari non hanno e ne ho conosciute molte in questi anni anche perché mi ero dimenticato di dire che il mio lavoro è anche un giornalismo di strada nel senso che da un lato scrivo gli articoli ma dall'altro ho un contatto diretto con i venditori perché coordino anche la loro organizzazione delle vendite quindi c'è un rapporto diretto con le persone che poi in strada o vivono o comunque lavorano e quindi frequentano la strada le persone di strada nelle mese nei dormitori eccetera chi sono questi irriducibili sono semplicemente persone che non riescono in alcun modo a rientrare nelle regole diciamo istituzionali che siano quelle di un dormitorio che siano quelle di una convivenza perché per motivi vari spesso sono problemi psichiatrici spesso sono nella maggior parte dei casi sono dipendenze dipendenze che possono essere sì il crack perché adesso magari sta girando crack a Torino ma se no l'alcol soprattutto a volte ci sono policonsumi la questione psichiatrica è molto importante anche perché qua spesso ci si pone il problema ma il problema psichiatrico e la causa dell'essere in strada è una conseguenza non c'è una risposta cioè può succedere questo e quello il problema è che di fronte può succedere come può succedere il contrario certo può essere che uno è quasi intuibile dopo anni di vita in strada dopo mesi dipende dalle persone vada in depressione subentrino allora lì il problema psichiatrico quindi non è vero che è in strada perché uno è psichiatrico ma il problema psichiatrico mi ricordo un film di Nanni Moretti non ricordo quale era bellissima la scena quando lui aveva questo prurito e andava da tutti gli specialisti e gli dicevano certo ma lei ha un problema psicologico e lui dice ma vorrei vedere lei quando ti gratti per dieci ore al giorno se non ti subentra quella psicologica è nata prima l'uola gallina questa roba qua quindi sì ci sono persone che non riescono a rientrare nei circuiti e anche per questo vorrei segnalare un'iniziativa che è FIOPS allora c'è questa federazione italiana di tutti gli enti gli organismi che si occupano di persone senza dimora che negli ultimi dieci anni credo abbia celebrato i dieci anni nel 23 ha portato in Italia questa pratica che si chiama Housing First che è molto interessante perché aggira tutta questa questione qua del non riuscire a rientrare nelle proposte diciamo di alloggio di reinserimento istituzionali cosa succede? l'Housing First come dice anche il termine invece di mettere le persone in questa sorta di gioco dell'oca che è il percorso a gradini perché poi funziona un po' così adesso dopo Covid i dormitori ad esempio sono aperti 24 ore al giorno ma prima erano aperti solo durante la notte al mattino alle 8 venivi sbattuto fuori e spesso c'era una riassegnazione ogni tre giorni del tuo posto letto quindi non avevi alcuna garanzia mentre oggi c'è meno male cioè il Covid ha portato anche qualcosa di positivo e succedeva che prima le persone venivano sbattute da un posto all'altro dalla città alla ricerca di un posto letto e questo poteva andare avanti mesi per cui chi era forti riusciva tipo il Claudio Garello che ho citato prima che in pochi mesi è riuscito a togliersi da questa situazione ma sono rarissime le persone che hanno questa forza di volontà queste capacità questi mezzi la maggior parte sono persone che non ce la fanno e quindi spesso venivano in qualche modo risucchiati da questo sistema per anni e quindi per anni e poi magari sgarravano allora lì quando succede che perdi il posto ricominci come il gioco dell'oca ricominci da zero ecco l'Housing First travolge tutto questo questo sistema nel senso che prima ti dà una casa e poi allora c'è un accompagnamento per un reinserimento intanto torniamo tra pochissimo e vorrei che insomma condividessi con noi poi alcuni dati che riguardano insomma in realtà la povertà generale in questo in questo paese farei un passaggio musicale che insomma sembra anche opportuno quantomeno nel titolo il fatto di non dimenticare di non girare mai o di non credere diciamo al fatto alla narrazione come dire generalista per la quale insomma in questo paese da sempre insomma si vuole vendere come dire un giocattolo che è rotto che vada tutto bene invece non è assolutamente così questi sono i Psychedelic First e questa è Don't Believe Don't Believe dei Psychedelic First dall'album Made of Rain uscito il 31 luglio del 2020 per Cooking Vinyl allora Enrico torniamo a ragionare sui dati ripartiamo da qui insomma sui dati della povertà in questo paese perché all'interno del nuovo numero di Scarpe the Tennis c'è un un articolo di Paolo Lambruschi se non sbaglio che focalizza proprio l'attenzione sui dati della povertà in questo paese lo dicevo prima del brano dei Psychedelic First insomma è inutile raccontarselo questo è un paese che insomma fa molto poco se vogliamo i conti con la povertà relativa e anche quella assoluta no Enrico? Sì Lambruschi cita il solito il consueto rapporto annuale di Caritas sulle povertà e l'esclusione sociale che è arrivato alla trentesima edizione nel 2023 e l'osservazione che fanno loro che da 30 anni si occupano della questione e curano questo rapporto annuale è che la povertà in questo paese è diventata strutturale si continua a parlare di emergenza povertà emergenza fredda emergenza qua emergenza là in realtà non è più un'emergenza perché quando si ripete in modo costante non si tratta più di emergenza e questa dovrebbe essere una presa di coscienza che questo paese a tratti ha fatto ha avuto e in questa fase direi proprio di no questa decisione di di demolire ad esempio il reddito di inclusione con tutti i difetti che poteva avere ma era un'intuizione corretta non nella lotta alla povertà nel senso che poi vabbè come sempre ci sono casi di strumentalizzazioni di sfruttamento di raggiri ma non è quella la questione la questione però questo proposito scusami Enrico sulla questione del reddito minimo in questo numero di dicembre gennaio tu scrivi anche di una campagna europea diciamo che non si riduce più diciamo al nostro paese di una campagna europea per promuovere un reddito minimo contro la povertà ne scrivi tu un pezzo all'interno di questo numero di scarpe di tennis sì perché poi tra l'altro l'Italia si distingue sempre per andare in controtendenza nel senso che a livello europeo ormai da anni ci sono queste campagne a favore di un reddito minimo l'Italia è uno dei pochi paesi che non aveva uno schema di reddito minimo dei pochi paesi dell'Unione Europea che non aveva uno schema di reddito minimo il reddito di inclusione in qualche modo andava in quella direzione il fatto di eliminarlo di abbatterlo completamente e adesso trasformarlo in questo assegno di inclusione che non si capisce bene perché pare che poi al punto le difficoltà burocratiche siano tali per cui moltissime persone che magari avrebbero anche diritto ad accedervi non lo fanno e quindi appunto anche questa come dicevo prima poca sensibilità alla necessità poi di di contrastare seriamente la povertà perché poi la questione di fondo è anche culturale nel senso che se in un paese ci sono meno poveri cioè dare possibilità alle persone di non entrare di non andare sotto la soluzione di povertà fa bene a tutto il paese perché poi vuol dire servizi vuol dire costi sociali costi economici però pare che appunto non ci sia questa sensibilità anche con il reddito di inclusione diciamo le voci critiche erano sempre relative al fatto che le persone utilizzassero in modo passivo questo supporto al reddito e non avessero voglia di lavorare no questa era un po' l'idea senza rendersi conto che fatto 100 la popolazione di persone che avevano accesso al reddito di cittadinanza almeno un terzo ma probabilmente di più sono persone che non possono lavorare in nessun caso non è che non abbiano voglia per motivi di età per motivi che dicevamo prima psicologici sociali relazionali e quindi ci sarà sempre una parte di popolazione che andrà in qualche modo supportata cambiamo i nomi alle iniziative ai meccanismi economici però questa cosa non può essere cioè non è che diciamo togliendo lo strumento per cercare di contrastare la povertà la povertà automaticamente scompaia e si risolva da solo no? come dice giustamente Lambruschi in questo articolo pare che ci sia più più che una lotta alla povertà si ritorna un po' a una lotta ai poveri e questo è drammatico perché intanto i dati ISTA ci ricordano che siamo ormai arrivati a 5 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta in questo paese e oltre a 14 milioni a rischio povertà sono numeri grossi sono numeri in aumento tra l'altro che vanno contro il progetto l'obiettivo europeo che era di ridurre entro il 2030 di 15 milioni poveri che nell'Unione Europea sono quasi 100 milioni è emergenza sociale insomma conclamata se vogliamo ci torniamo tra un attimo anche volevo anche portarti poi su alcune riflessioni sulla questione anche delle prossime elezioni europee perché insomma sei molto molto attento e lavori sulle questioni europee da decenni per cui insomma il tuo è un osservatorio privilegiato intanto prossimo passaggio musicale siamo ai nuovi libertines questa è Run 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 e questi sono i libertines con la loro Run 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 singolo uscito il 12 ottobre del 2023 che anticipano il nuovo disco di Pete Doherty e Karl Barrett All Quiet on the Eastern Esplanade in uscita l'8 marzo del 2024 per Casablanca e Republic allora Enrico torniamo un attimo sulle questioni più squisitamente europee ma soprattutto legate alle elezioni che ci saranno a giugno insomma che dal tuo osservatorio tu diciamo da anni ti occupi di questioni europee di politiche sociali in Europa dal tuo punto di vista che che cosa c'è da aspettarsi rispetto anche a questo fronte sovranista che avanza in qualche modo e rispetto anche alle politiche sociali che ci aspettano in un futuro diciamo in Europa lo spostamento a destra ormai è evidente in moltissimi paesi europei quindi è molto probabile che anche queste elezioni europee lo segnaleranno lo segneranno e quindi siamo in una fase un po' così di preparazione e mi ha colpito ad esempio nelle settimane scorse l'accordo raggiunto tra le istituzioni europee l'istituzione dell'unione europea su questo patto su immigrazione e asilo che era in discussione ormai da qualche anno dal 20 al 23 e cosa è successo? C'è stato un accordo assolutamente restrittivo assolutamente un ritorno alcune critiche feroci dicono di un ritorno di un passo all'indietro di 20 anni sulle politiche migratorie e soprattutto sulla non garanzia dei diritti delle persone che migrano ma questo è evidente non avviene per caso come dicevamo già all'inizio poi le cose non avvengono per caso ma non avviene per caso in questa fase perché cosa succede? I partiti tradizionali che poi hanno nominato i responsabili delle istituzioni e quindi sia la Commissione sia il Consiglio europeo il Consiglio dell'Unione e in qualche modo i partiti tradizionali che sono quelli che hanno la maggioranza al Parlamento europeo in previsione delle elezioni hanno voluto dare un segnale perché era abbastanza scontato che la questione migratoria sarebbe stata poi cavalcata nelle campagne elettorali dalle partiti dalle destre europee avrebbe avuto consensi perché poi questo è un tema che in elezioni ha sempre consenso viene sempre strumentalizzato in tutti i paesi anche a livello europeo noi in Italia lo sappiamo bene e anche gli attuali governanti lo sanno bene non per niente sono riusciti ad avere una maggioranza schiacciante prevalentemente sulle questioni migratorie quindi il segnale la preparazione alle elezioni in cui diamo l'idea che noi siamo restrittivi che noi poniamo dei seri limiti che noi andiamo a fare politiche in qualche modo di contrasto duro delle migrazioni in modo che i nostri avversari le destre europee non possano poi in campagna elettorale accusarci di lassismo e non abbiano uno degli argomenti proprio più più cavalcati in genere in campagna elettorale e allora intanto siamo alla seconda pausa lunga di almeno due pagine al giorno vi ricordo che potete in qualche modo interagire con noi o scrivendo una mail a diretta chiocciola rb.it oppure inviando un messaggio al 328 8757 845 noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità anche il nuovo infotraffico muoversi in Piemonte il GR di Popolare Network dopo la pausa saremo all'ultimo chilometro di almeno due pagine al giorno per oggi ancora con Enrico Panero parleremo anche di cultura di progetti culturali di interessanti suggestioni anche da condividere con voi in questo 4 gennaio 2024 a tra poco Acrylic Afternoons dei Pulp da Eason Earth uscito il 21 giugno del 1994 per Island Records sono le 10 42 secondi 10 43 minuti in questo preciso istante bentornati ad almeno due pagine al giorno siamo ormai diciamo all'ultimo quarto d'ora di trasmissione per oggi ma voglio tornare ancora dal mio ospite in studio oggi Enrico Panero per continuare a raccontare il lavoro come giornalista accanto e senza fissa dimora ma anche insomma facendo un ragionamento di prospettiva intanto sul numero di dicembre gennaio di Scarpe Tennis il mensile di strada abbiamo parlato un po' di contenuti abbiamo parlato di povertà in Italia c'è anche un altro tuo articolo Enrico che racconta una realtà che si chiama opportunanda cito il titolo del tuo servizio porta sempre aperta ma servono volontari opportunanda offre un servizio unico in città ma visti i grandi numeri senza supporti rischia di diventare ingestibile di che cosa stiamo parlando Enrico opportunanda è un'associazione che ormai da almeno 15 anni a San Salvario quindi nel centro di Torino vicino a Porta Nuova offre tutte le mattine una colazione è l'unico servizio a Torino che non chiede nulla l'ingresso libero è aperto a chiunque non viene chiesto né nome né documenti quindi ci può entrare chiunque e la Presidente mi segnalava appunto che negli ultimi diciamo nella post-covid i numeri sono aumentati tantissimo e spesso soprattutto nel periodo invernale in questo periodo qua si arriva a 150 persone ogni mattina che vanno lì a fare colazione che poi la colazione è una scusa per avere un contatto intanto per stare al caldo per incontrare qualcuno essere agganciato e quindi chiedere informazioni sui servizi che ci sono in città il problema è che essendo l'unico servizio ed essendo di puro volontariato non ce lo fa più allora mi diceva abbiamo bisogno di volontari oppure di far sì che le istituzioni aprano altri servizi di questo tipo perché se aumenta la domanda vuol dire che la domanda c'è e quindi ci sono sempre più persone che hanno bisogno di avere dei servizi di bassa soglia aperti senza troppi controlli senza poi da lì chiaramente c'è un aggancio ai servizi e quindi può iniziare un percorso ma anche no può anche solo essere un momento di di pausa sì di queste due ore in cui si stacca un attimo la spina dalle difficoltà quotidiane perché poi appunto c'è una giungla la vita in strada veramente pesante uno dice ma cosa hanno da fare hanno da tutto il giorno organizzare un passaggio tra gli orari della mensa quelli del dormitorio quelli dei vestiti quelli già solo per diciamo mantenere una quotidianità poi c'è chi invece ha anche qualche qualche numero in più qualche un po' di grinta in più e allora si deve anche organizzare un percorso di uscita da quella situazione opportunanda quindi è un'associazione secondo me da segnalare perché offre questo servizio assolutamente free e assolutamente gratuito e lo fa quotidianamente e quindi quotidianamente incontra persone quindi anche un polso della situazione in città mi ha fatto piacere perché dopo l'articolo e nel titolo abbiamo segnalato la necessità di avere volontari qualcuno ha telefonato opportunando offrendo il loro lavoro volontario molto bene allora prima di passare poi ad altro invece ci racconti se è possibile insomma il su cosa stai lavorando insomma per il prossimo numero perché insomma a breve uscirà anche il numero di febbraio di Scarpe Tennis su che cosa stai concentrando la tua attenzione Enrico Sì guarda mi hanno chiesto un contributo torinese su un dossier nazionale perché poi Scarpe è sempre organizzato in questo modo ha una diciamo prima metà che contiene gli articoli dossier le inchieste che vengono svolte a livello nazionale e poi una seconda metà in cui viene dato spazio alle redazioni locali ad esempio Torino ha due pagine Napoli ha due pagine eccetera eccetera e quindi per il contributo al dossier delle pagine nazionali che è sulla ludopatia mi è stato chiesto un contributo torinese in specifico sulla questione della ludopatia tra gli adolescenti infatti ieri sera a luna ho finito di scrivere l'articolo e ho intervistato un counselor che lavora con il gruppo Bele con l'ASL 5 di Torino del GAP del gioco ad azzardo problematico e che mi mi ha aperto un po' così gli occhi su questa situazione gli adolescenti e poi sai è emerso il caso di Fagioli di Zaniolo di Tonali di alcuni calciatori famosi loro si accorge che tra i ragazzi giovani il gioco soprattutto online è diffuso questo chiaramente era appunto dell'iceberg questo operatore che conosce anche i casi singoli mi diceva adesso non è che si voglia parlare di Fagioli perché poi i casi personali non ci interessano però lui diceva è emblematico perché questo ragazzo gioca da quando aveva 14 anni adesso è stato poi per l'inchiesta della magistratura è emerso il caso quando lui ne ha 20 e più però quindi lui dice concentrarsi esclusivamente sul fatto del gioco è limitativo perché in realtà bisognerebbe vedere la persona a 360 gradi a livello relazionale affettivo cito solo questa cosa che mi ha colpito moltissimo di un caso di un ragazzo 17enne che viene lasciato dalla fidanzata va in depressione è un bravo ragazzo quindi ha buoni rapporti familiari di buona famiglia non aveva il vizio del gioco non conosceva neanche il gioco non conosceva nemmeno il calcio si tuffa perché qualche amico glielo consiglia sulle scommesse sportive sul calcio scommesse online chiede alla mamma se gli presta la carta per giocare la mamma di fronte al fatto che sia comunque un figlio che non ha fino a quel momento lì non era stato problematico e però è in depressione quindi per dargli una mano gli dà la carta di credito in un anno si fuma 20 mila euro con il contributo e con la complicità del genitore quindi è un problema davvero diffuso è un problema che riguarda molte famiglie e che coinvolge in modo diretto o indiretto anche i genitori ecco allora insomma torneremo allora a parlarne di sicuro se tu avrai voglia Enrico insomma quando uscirà il numero di raccontarci anche i contenuti di un fenomeno sul quale insomma torniamo anche periodicamente anche da queste parti un fenomeno insomma molto molto preoccupante ma intanto li abbiamo sentiti e intervistati all'interno della versione culturale quella solita dalle 10 alle 11 di almeno due pagine al giorno che torna da lunedì prossimo 8 gennaio Cesare Petulicchio Adriano Viterbini che abbiamo intervistato all'interno di almeno due pagine al giorno in occasione dell'uscita di Next Big Niente il nuovo album dei Bud Spencer Bruce Explosion potete recuperare le interviste sul nostro sito rbe.it andiamo ad ascoltare questa in sintesi almeno due pagine al giorno attualità cultura notizie approfondimenti con Francesco Piperis portata rispondimenti come 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 come